buongiorno a tutti voi e bentornati qui vediamo una lente composta da due lenti la parte sotto ingrandisce 10x stiamo ingrandendo 10x quella parte sotto la parte sopra ingrandisce 8x adesso usiamo quella sopra ingrandisce 8x e quella sotto ingrandisce 10x c'è anche scritto sopra vediamo giriamo la lente quella sotto è un 8x e quella sopra bisogna andare più vicini è un 10x adesso le sommiamo eccole qui e abbiamo un 18x vediamo molto attaccato l'oggetto vediamo che ingrandisce molto vedete il retino della stampa messo a fuoco quindi questo è un 18x una lente composta due denti 8x e 10x insieme 18x